Oggi la ricetta delle trecce con lo zucchero Facciamo sciogliere il lievito di birra nel latte insieme allo zucchero Lo lasciamo così per 10 minuti per far attivare il lievito Trascorsi 10 minuti mettiamo la farina setacciata in una ciotola Aggiungiamo il composto di latte, zucchero e lievito Un bel cucchiaino di miele E iniziamo a mescolare gli ingredienti con una forchetta L'impasto può essere aromatizzato con la vaniglia oppure con la buccia di agrumi Poi trasferiamo l'impasto su un piano di lavoro e iniziamo ad aggiungere il burro morbido poco per volta Anche un pizzico di sale e iniziamo ad impastare Lo lavoriamo fino a farlo diventare un panetto liscio ed omogeneo Lo dividiamo in 5 parti di circa 100 grammi e formiamo le treccine E ora facciamo lievitare le treccine fino al raddoppio Dopo il raddoppio spennelliamo con del latte Ora andiamo ad infornare Una volta sfornate le lasciamo in tividere Poi spennelliamo con acqua o latte e le passiamo nello zucchero Poi spennelliamo con acqua o latte e le passiamo nello zucchero